Riniziare a vivere il luogo dove si abita e lavora, farlo per la sostenibilità e per l'economia locale. Questi tre obiettivi dell'iniziativa presentata oggi a Como, e cioè la giornata nazionale della prossimità locale, il Think Local Day. Una data, fissata per sabato 23 ottobre, che mette in primo piano il valore della vicinanza e nello specifico del proprio quartiere della propria città. Think Local Day, che ha ottenuto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri e l'adesione di ConfCommercio, nasce dalla spinta di un gruppo di cittadini riuniti nell'associazione Eroi Normali, persone mosse dalla voglia di sensibilizzare la comunità anche verso temi come l'importanza del commercio divicinato. Moltissime sono state le iniziative, ha evidenziato il direttore di ConfCommercio Como, Graziano Monetti, realizzate anche durante il periodo di pandemia, uno dei momenti più difficili per le imprese. Attività che hanno poi perso popolarità con le progressive riaperture. I valori di questa manifestazione sono i nostri valori che sosteniamo da sempre con impegno, ha continuato Monetti, il ruolo di presidio sociale, di servizio e di fiducia della rete commerciale di vicinato dei quartieri delle nostre città. Think Local Day, conclude il presidente di ConfCommercio Como, Giovanni Ciceri, è anche un incentivo per tutti a vivere il proprio territorio.